Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriremo gli Hero Pop di Chica Boom. Di Elastic Corpse Hero Pop. Come possiamo vedere sono adatti a bambini di più 4 anni e ce ne sono davvero tanti. Sono 12 tutti da collezionare in più ci sono 4 speciali e sono una tigre, poi c'è uno squalo, un gatto, una pantera nera e uno squalo azzurro. Siamo pronti ad aprire le nostre bustine di Chica Boom al costo di soli 5,99€. Li trovate in edicola o nei migliori negozi di giocattoli. Se non vi siete iscritti iscrivetevi al canale e chi apre per primo? Appriamo, apriamo, apriamo. Apri da quest'altro lato, vedi? Apriamo e all'interno della sua bustina troveremo un piccolo inconveniente che abbiamo avuto con la bustina che non si apriva. Viola e... Viola! Come si chiama? Lo squalone. Lo squalo che si chiama? Fanni. Leggi, leggi un attimo. Aspetta, dentro c'è un magazine. Ecco qui, all'interno c'è anche un magazine con un buono sconto di 5,00€. E vediamo, Finni, cosa farà. Dall'interno esce anche questo bersaglio. Lo posizionate. Adesso lui l'abbiamo messo qui sopra, ma lo potete posizionare anche a terra. E via! Per te? Come sono? Bellissimi! Adesso apriamo la bustina di Mattia. Apriamo... Dentro c'è la... Svirciamo... Ok! Non ne volevo! Che bello! Quello con le punte! Che belli! Oh, è rotto! Oh, è Cigabum! Ce l'hai mandato rotto, guarda! Questo di Mattia è Dragold. Un antistress, squishy e fun. Quindi è quello dorato. E questi sono i nostri nuovi amici. Dragogold e Finni. Se non vi siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanellina e, mi raccomando, condividete i video con i nostri amici. Ciao! Ciao! Ciao!